Tappa piemontese del percorso Mice in Italy, un percorso che ogni anno dedichiamo al confronto con gli agricoltori. Quest'anno tre pilastri importanti guidano la proposta di Singenta per il 2019, una genetica, l'agronomia e la protezione della cultura. Singenta negli ultimi anni ha investito molto nel miglioramento genetico e da quest'anno cominciamo a vedere veramente i frutti importanti di una gamma che è completamente rinnovata. Antex, un ibrido particolarmente dedicato alla produzione di granella per l'ottima produttività e la sua adattabilità nei diversi ambienti e per la sua caratteristica della digeribilità dell'amido che lo rende estremamente interessante nella produzione di pastore da dedicare all'utilizzo zootecnico. Nel panorama dei trinciati Gladius è oggi libido che coniuga produttività e qualità. Da un punto di vista di produttività si pone al di sopra di ogni standard produttivo, da un punto di vista qualitativo unisce quelli che sono i più elevati standard di digeribilità della fibra con elevatissima concentrazione di amido. Questo soddisfa le richieste degli elevatori più esigenti. Importanti investimenti sono in atto anche sulla componente agronomica con un obiettivo fondamentale che è quello di arrivare ad un miglior posizionamento degli ibridi nei diversi ambienti, nei diversi terreni, in ciascun appezzamento per ciascuna azienda agricola. Questo diventa fondamentale per far sì che la genetica possa produrre in ciascuna situazione il massimo delle sue potenzialità. I mais che abbiamo in campo oggi sono mais particolarmente produttivi. La protezione della coltura aiuta a massimizzare il potenziale produttivo della genetica. Sulla difesa delle piante e dell'apparato radicale ForSultra è sicuramente l'insetticida più innovativo per il controllo della diabrotica e degli elateridi in campo. Elemento altrettanto importante è difendere il seme dall'attacco di patologie fungine in campo. Avere un seme difeso dalle patologie fungine permette alle piante di avere una partenza più rapida, più pronta e un campo che parte in maniera più omogenea. Singenta con Celes è stato sempre leader nella difesa delle patologie fungine del seme. Oggi propone un'evoluzione che si chiama Celes 4 che è un prodotto completamente rinnovato che aggiunge al precedente due nuovi principi attivi e che permette di avere una difesa più completa del seme in campo a 360 gradi.